Sì, sono molto contento, era molto tempo che aspettavo questo esordio, spero che ci possano essere altre occasioni, mi alleno sempre al massimo e cerco di mettere in difficoltà il mister. Partite facili non ce ne sono anche oggi, non è stata facile, ha un pareggio comunque positivo? Assolutamente no, dispiace perché la partita si era messa nel verso giusto, sono molto contento che Simone Guerra sia riuscito a segnare, era un bel po' che lo aspettava, sono molto contento per lui, dispiace un po' per il risultato perché volevamo avere tre punti. Nonostante ciò è un buon punto, è una battaglia che ci aspettavamo, adesso speriamo e da domani pensiamo già a domenica prossima che vogliamo fare tre punti.